Festa di fine Ramadan nei Villini, principessa Mafalda di Savoia, organizzata dall'Associazione Accogliarete. La seconda festività religiosa più importante per la cultura islamica ha rappresentato un momento di gioia per la fine di un lungo periodo di penitenza. Una festa che si è tradotta in un'occasione di integrazione e scambio tra culture diverse, con musica e canti senegalesi, culminata con l'esibizione del gruppo Afro Family, spazio anche alle degustazioni offerte dalle comunità di stranieri residenti nella nostra città, presenti anche dei banchetti informativi.